Ciao a tutti ragazzi, sono TheVentureMagic ed è successo un disastro altamente pericoloso su Kroosho Plans. Adesso sto scherzando, però è veramente una cosa che mi ha sdraiato. Due persone. Mi nome... un attimo che ci guardo, che me lo sono scordato. Allora, una mona, e se non mi ricordo bene, stavo dicendo, sono andato a guardare, AntoNYX941 hanno eliminato tutte le persone dal clan perché sono state simpatiche in pratica, tra virgolette, qualcuno le ha eliminate inserano il clan e hanno eliminato tutti dal clan, quindi di conseguenza non sono stato io. Quindi voi tornate appena potete, se siete feri di questo clan, tornateci. Questo è un avviso di avvertenza. Ciao a tutti da TheVentureMagic.